Due serate all'insegna della cultura. La dodicesima edizione del Settembre Culturale ha aperto il sipario lo scorso sabato 31 agosto presso il castello Angioino Aragonese con il giornalista, scrittore e sceneggiatore Diego De Silva, che ha presentato il suo ultimo libro Superficie. Notevole la presenza di pubblico per una rassegna che di anno in anno si dimostra sempre più punto di riferimento a livello regionale e non solo in tema di cultura. Tante le presenze registrate anche per la seconda serata con la foodblogger Chiara Maci e suo marito Filippo Lamantia, chef, insieme hanno presentato il libro Ma tu come la fai la caponata. Una serata frizzante, molto interessante, che ha catturato l'attenzione dei presenti. Prossimo appuntamento martedì 3 settembre alle ore 19 con la presentazione di tre libri Gio e Pietrosino l'incorruttibile, Re ad amore e questione di stile.